Il calciatore era stato riscattato, ma l'Inter ha immediatamente effettuato il controriscatto. Ecco i dettagli. È un nome che piace molto in Serie A, in particolare al Genoa con il quale l'Inter sta chiudendo l'operazione Giuseppe Martínez e ha dei discorsi avviati per Albert Gum Dunson. Parliamo di Francesco Pio Esposito, fratello minore di Sebastiano e Salvatore. Sebastiano è ancora di proprietà dell'Inter, mentre Salvatore non più ma ha condiviso quest'anno proprio l'esperienza all'Ospezia con Francesco Pio, un attaccante già ben strutturato e di grandissime prospettive. Non a caso è nel mirino di alcuni club di massima serie, come appunto il Genoa. Lo Spezia aveva un diritto di riscatto che ha esercitato, lo stesso però ha fatto l'Inter con il controriscatto, come riportato da Città della Spezia. Com. Così nelle casse del club Ligure finiranno circa 500.000 euro come una sorta di premio di valorizzazione del Bomber Class 2005, autore di tre gol nella stagione che si è da poco conclusa, Pio Esposito è stato seguito tutto l'anno dal Genoa, ecco perché è uno dei nomi in lizza per finire nell'operazione Martínez. Entro questa settimana è attesa la fumata bianca, con il portiere spagnolo che dovrebbe trasferirsi alla corte di Inzaghi per circa 15 milioni bonus inclusi. Grazie a tutti.